Primo o poi si doveva arrivare al dunque, al Morstua-Vitamea, al conflitto inevitabile e il conflitto è però purtroppo sulla pelle dei pendolari. Parliamo della linea Mantua-Cremona-Milano, ma non ci stupiremmo se presto il tema dovesse essere trasferito anche su altre linee ferroviarie che soffrono sempre dello stesso problema, in particolare nella nostra zona. Ritardi cronici, cancellazioni, strumentazione, intesa in senso lato, vecchia e inadeguata. Già, ma di chi è la colpa? Da un lato Trenord è proprietaria dei veicoli, dunque dei treni. Dall'altro RFI è invece l'ente che gestisce la linea, dunque binari e stazioni, per intendersi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è scattata da Mantua, ma coinvolge da vicino anche Cremona, perché tutti i pendolari sono sulla stessa barca, pardon, sugli stessi treni. Gli ultimi ritardi, le ultime cancellazioni, tra i casi limite ricordiamo quello di martedì, col treno delle 17.22 da Milano-Lambrate arrivato nella stazione Meneghina alle 18.02 e poi definitivamente cancellato, dunque non più ripartito, non hanno infatti portato ad alcun rimborso per i pendolari stessi. Il motivo? La colpa, secondo Trenord, è delle infrastrutture, dunque di RFI, ed è a RFI che i pendolari dovrebbero rivolgersi. E mentre la politica si muove, con i sindaci di Cremone di Mantua, che hanno scritto RFI appunto, la Regione, su spinta della consigliere leghista Alessandra Cappellari, invita a un confronto con l'assessore ai trasporti terzi, sia la stessa RFI, sia Trenord, sperando che un faccia a faccia consenta alle due società di non smarcarsi più e di non nascondere più la polvere sotto il tappeto, non rimandando così le soluzioni, affidandosi a Mezzucci o ai cosiddetti cavilli, perché, ne siamo certi, ai pendolari andrebbe anche bene non ricevere un rimborso, che comunque meriterebbero, se in cambio venisse però finalmente fornito un servizio degno di essere chiamato tale.